Questo non è un semplice canale di gameplay. Quando ho acceso questa fiamma, coraggiosamente, non avevo idea di cosa avrei trovato. E ho scoperto una famiglia. La famiglia Antani. Un gruppo attivo, coraggioso, evoluto sulla piattaforma, insieme a me. Ed ora, quella fiamma è diventata il nostro focolare, attorno al quale ci ritroviamo, per stare insieme, condividere, discutere. Ti presento il Braveheart. Un focolare. Un focolare da alimentare con i tuoi consigli. Le tue aspirazioni. Il tuo coraggio. Ora tocca a te tenere viva quella fiamma. Mono a te tenere. Un loro canale. Nono, nono meno. Nono, nono. Cono bueni. Nono, nono. Nono, nono. .